La rendita curlice di un centro storico in via di riqualificazione è per gran parte già riqualificato con questa invasione pacifica di scrittori, poeti, letterati che rendono il nostro centro storico ancora più suggestivo e ancora più vivo. È un'iniziativa che viene attesa annualmente e da cinque anni si è andata consolidando in Italia oltre che a Salerno e anche oltre. È stata presente anche al Festival del Libro di Torino, al Salone del Libro di Torino. Insomma è un appuntamento indispensabile per il lancio turistico della nostra città. Alla quinta edizione il Festival Salerno Letteratura ha conquistato il cuore dei salernitani. È uno degli eventi culturali più attesi, fa parte ormai del palinzesto in maniera imprescindibile e per nove giorni animerà tutta la città, il centro storico, avremo centinaia di ospiti importanti e sarà una città tutta da godere con la lettura, con gli autori e con musica e spettacolo. Come sempre molti molti eventi, a cominciare dall'anteprima del 12 con Howard Jacobson che si terrà all'Agusteo. Il 17 ormai dell'anno scorso c'è il tradizionale incontro con i cinque finalisti dello Strega. Poi avremo un folto programma ragazzi, bambini, avremo musica, teatro, film. Ci saranno tre film che si faranno alla sala Pasolini. Poi avremo Guido Catalano, Giovanni Truppi, un quinquetto calabrese Carmine Abbati con Cataldo Perri. Avremo il trio malinconico con Diego De Silva e quindi via via molti autori stranieri. Quest'anno avremo a Salerno e molti autori italiani. Questa manifestazione ha ottenuto anche un importante riconoscimento quale? Ha ottenuto l'EFLabel che è un riconoscimento europeo che si dà a tutti i festival attivi in Europa che hanno particolari requisiti internazionali, di valore internazionale. E poi siamo stati anche partner del Salone Internazionale del Libro di Torino. Abbiamo partecipato a un grande evento con Richard Ford che ha presentato questo suo nuovo libro nella Sala 500 del Salone e poi abbiamo fatto una presentazione di Salerno Letteratura all'interno dello Spazio Super Festival che il Salone di Torino ha dedicato quest'anno ai festival letterari italiani. Ines Mainieri Grazie.